L'esondazione dei vari fiumi ha avuto un solo merito, fermare i continui furti sul territorio valdenese che dopo una sosta avevano ripreso a registrarsi, soprattutto nella zona sud del comprensorio. Nei giorni scorsi sono state svaleggiate numerose abitazioni nelle varie frazioni di Montesano sulla Marcellana. Il modus operandi era sempre lo stesso, i malviventi in azione tra le 17.30 e le 20 entrano nelle case e incuranti della presenza dei residenti portano via soldi e oggetti preziosi. Ecco la testimonianza di una delle famiglie colpite dai malviventi. Lo sconforto è davvero tanto, hanno riferito la casa, luogo di eccellenza di sicurezza e affetti, non è più sicura ed è triste pensare di essere impotenti. Nel caso specifico il colpo è avvenuto al piano superiore mentre giù erano presenti i residenti. Non abbiamo sentito nulla, eravamo al piano terra e loro hanno rubato al piano superiore. Bastava poco per ritrovarseli di fronte, c'è necessità di interventi urgenti per assicurare la nostra sicurezza. È un diritto fondamentale.